...finiva la partita e Spinesi piuttosto nervoso aveva qualcosa da dire all'arbitro. Non contento Spinesi andava con Necrù dove impazzava la festa sotto la curva dei sostenitori avversari. Attimi di tensione, correva anche Tardelli a placare gli animi. Peccato, il Bari subita la sconfitta poteva incartarla e portarla a casa. Scene di questo tipo non fanno bene al calcio. Ai giovani si insegna che bisogna saper perdere, invece quella è solo teoria. Si può andare in cima con fair play. Vincenzo Materrese, presidente del Bari, deve alzare la voce. L'atteggiamento di Spinesi non giova al Bari. L'attaccamento ai colori sociali va anche bene, ma la sportività viene prima di tutto.